Ora si registrerà la conferenza. Oggi insieme ad ospiti e autorevolissimi che vi presento via via, riconoscete già al centro del tavolo il professor Gaetano Quagliariello che ringraziamo, il presidente della fondazione Magna Carta, il suo è un curriculum accademico notevolissimo. Insieme con lui vedete il professor Visone, vedete accanto a me il professor Giorgio Grimaldi, vi presento uno per uno i discussant dei panel per queste due ore. Saremo insieme fino alle 19. Parlando di Europa io vi darò cari discussant dei tempi europei e quindi invito sin d'ora tutti ad essere brevi a partire dall'introduzione dei lavori di oggi che affido al professor Giorgio Grimaldi. Buonasera a tutti. Allora io saluto a nome dell'Università degli Studi Link porto anche il saluto del magnifico rettore dell'Università per questa iniziativa che riguarda un progetto Jean Monnet, un progetto europeo che è iniziato già da alcuni anni che riguarda gli europartiti, la democrazia e la società civile in Europa. Questo incontro è un momento proprio specifico e abbiamo così un momento importante collegato anche alle lezioni europee, ma abbiamo la possibilità quindi di affrontare questo tema anche grazie all'intervento oggi del professor Quagliariello e di altri docenti che discuteranno un libro che è appena uscito, molto significativo, che ci introduce un po' al dibattito sull'Europa che vogliamo, l'Europa che vorremmo e anche al ruolo che svolgono le fondazioni politiche. Abbiamo parlato con gli studenti, abbiamo parlato del sistema partitico europeo, abbiamo affrontato le tematiche europee da tanti punti di vista storiche, politiche e così via e in questo momento può essere un momento di approfondimento importante per tutti e si lega a questo progetto. Questo progetto, voglio solo ricordarlo, è un progetto Jean Monnet che ha proprio come obiettivo quello di affrontare alcuni aspetti forse meno noti nel campo degli studi, cioè lo studio dei partiti politici europei, della dimensione dei partiti europei, delle riforme democratiche nell'ambito dell'Unione Europea e anche del ruolo della società civile, delle organizzazioni della società civile, dei fintank, di tante realtà anche lobbistiche che operano all'interno del sistema europeo. Ecco, detto questo, lascio subito la parola e iniziamo questo momento con la presentazione del libro L'Europa, la sovranità e riflessioni italo-francesi 1897-2023 edito da Rubettino e che è stato curato proprio da Gaetano Qualgariello assieme a Maria Elena Cavallaro e a Dominique Reynier. È una collaborazione tra la Fondazione Magna Carta e un'altra fondazione francese, Fondation pour l'innovation politique e quindi siamo veramente onorati di avere così l'opportunità di parlarne insieme e di presentarlo, di farlo conoscere agli studenti e a tutti quelli che ci ascoltano anche in questo incontro. Successivamente poi avremo anche un altro momento di dibattito con esponenti delle fondazioni politiche successivamente che poi introdurremo dopo questa prima ora di incontro dibattito e quindi poi proseguirà anche questo momento di approfondimento. Grazie. Buonasera a tutti quanti voi e grazie per questo invito e la possibilità di presentare questo lavoro che come è stato detto nasce dalla collaborazione tra due fondazioni una francese, la Fondazione pour l'innovation politique e la Fondazione Magna Carta. Si tratta fondamentalmente di una antologia sul tema del rapporto tra Europa e sovranità nell'epoca contemporanea. Il primo scritto che viene antologizzato è un articolo di De Gasperi che risale agli ultimi dell'Ottocento l'ultimo scritto invece è veramente appunto dei giorni d'oggi. Ora, perché questa antologia? Che senso ha? Ecco, innanzitutto come forse tutti quanti voi sapete non molto tempo fa è stato firmato un trattato bilaterale che si chiama il Trattato del Quirinale tra Italia e Francia che prevede in una serie di ambiti una sorta di cooperazione rafforzata. Un modo, insomma, per dire questi due paesi andranno un po' più veloci degli altri. Dire il vero non è il riconoscimento di nasce privilegiato perché i francesi contemporaneamente hanno anche rinnovato il loro accordo speciale tra virgolette con la Germania ma è l'indicazione di un metodo. Ora, si è in qualche modo previsto questo momento ma dentro questo momento fondamentalmente si è fino ad ora visto molto poco nel senso che tra Francia e Italia sono stati probabilmente più i momenti di polemica fino all'ultimo G7 che non evidentemente quelli di un accordo rafforzato. e allora questa evenienza ci ha dato innanzitutto un'idea cioè vediamo come le cose sono andate tra i due paesi nel lungo periodo e soprattutto proviamo a vederlo intorno ad un tema che non è una invenzione degli ultimi anni non è una invenzione dei cosiddetti sovranisti ma è il cuore della problematica europea da quando l'idea di Europa è nata fino ad oggi e cioè il rapporto tra l'Europa tra l'unità europea e il concetto di sovranità. Ecco e noi pensiamo che questo sia anche in qualche modo il nodo gordiano che ancora deve essere sciolto che anzi queste elezioni sono state insomma ricordate all'inizio di questo incontro come elezioni molto importanti addirittura storiche probabilmente lo sono ma lo sono perché appunto c'è questo nodo da sciogliere. Ora quali sono le cose che in qualche modo si possono ricavare da questa antologia si possono ricavare da questo volume oltre quella che ho appena citato e cioè la proiezione nel lungo periodo di questo tema innanzitutto noi abbiamo provato a dividere diciamo questo lungo periodo che va fondamentalmente dal secolo breve diciamo fino ai giorni d'oggi in tre fasi che a noi sembra corrispondano a tre fasi della unità europea della storia dell'unità europea. la prima è quella diciamo così della ideazione della fondazione prima ideale e poi concreta in questa fase Francia e Italia hanno una particolare importanza perché perché fondamentalmente in questa fase sono i grandi due i due grandi paesi che agiscono qualcuno di voi dirà ma ti sei dimenticato la Germania la Germania era piuttosto in quella fase per quello che diremo il problema per il qua per la quale questi due paesi agivano la Germania era quel paese ritenuto responsabile delle guerre europee dal 1871 la colpa dei padri cioè dei prussiani che ritornano sui figli fino alla seconda guerra mondiale che però una parte degli italiani una parte dei francesi quelli che erano al governo ritenevano assolutamente necessario riportare all'interno della comunità internazionale dunque questa è la prima fase c'è una seconda fase quella del consolidamento che in qualche modo si apre con la fine degli anni 50 e arriva fino alla fine degli anni 80 e poi una terza fase che noi abbiamo definito quella della globalizzazione per per l'essenziale e per stare nei dieci minuti che mi sono stati assegnati la prima fase sin dagli scritti di eh dei primi scritti antologizzati quelli di Enaudi da una parte quelli di Aristide Briand dall'altra è assolutamente evidente che l'unità europea è pensata eh in rapporto ad un tema fondamentale quello della pace e della guerra Enaudi scrive il primo articolo alla fine dell'ottocento quando vede l'ordine di Vienna andare in pezzi e ritiene necessaria la formazione di un nucleo di potere politico più ampio nel cuore dell'Europa per evitare che insomma quella decadenza dei principi fissati a Vienna potessero sfociare in un grande conflitto mondiale come poi accadde Briand scrive anzi il suo memorandum è della fase tra le due guerre si riferisce alla società delle nazioni e al tentativo di riformare attraverso l'idea di Europa la società delle nazioni per evitare che quello strumento diventi inutile e che quindi la fine della prima guerra mondiale porti automaticamente alla seconda guerra mondiale gli interventi del dopoguerra hanno la stessa diciamo lo stesso centro di gravità perché non solo si riferiscono alla guerra passata e si riferiscono quindi alla necessità di ricostruire quella trama del tessuto europeo che nel corso del novecento e a partire dal 1914 dallo scoppio della prima guerra mondiale era andata in pezzi ma soprattutto si riferiscono anche agli obblighi dell'Europa rispetto alla guerra che verrà o che potrebbe venire una guerra era venuta fredda ma nel millenovecentocinquanta con lo scoppio della guerra di Corea ecco la previsione è quella che questa guerra potesse in qualche modo sfuggire di mano ed arrivare a creare una nuova fase di conflittualità sul territorio europeo ecco è rispetto a questo che l'Europa viene pensata e rispetto a questo viene pensato il modo di superare diciamo il dogma della sovranità dello Stato creando diciamo un potere sovranazionale nel quale i coloro i quali quelle nazioni che avevano donato una parte di sovranità potevano sentirsi partecipi il potere sovrano sarebbe dovuto uscire dallo Stato nazionale ed essere recepito a un livello più alto evitando che potesse in qualche modo evaporare per questo quando si parlò di difesa comune e di esercito europeo un italiano cioè Alcide De Gasperi propose che quella soluzione si accompagnasse alla creazione di un vero vincolo di potere politico condiviso questa è la prima stagione ed è una stagione nella quale gli europeisti sono obbligatoriamente diciamo quasi tutti federalisti e soprattutto appunto la la competizione è una competizione di ordine classico tra una parte quelli che vogliono l'unità d'Europa dall'altra a chi non la vuole il fallimento nel 54 della CED apre una seconda fase questa seconda fase è molto di più caratterizzata da uno scontro tra federalisti e confederalisti cioè tra chi pensa che c'è un'Europa che si possa costruire attraverso insomma la giusta posizione degli stati che rimangono sovrani e che invece ritiene che la soluzione sia una soluzione di tipo federale perché questo scontro diventa più forte perché nel campo dei confederalisti proprio in Francia compare De Gaulle e quello è il momento sono gli anni di De Gaulle quelli dal 58 in poi sono gli anni nei quali il generale ha un'egemonia non soltanto sulla Francia ma anche in qualche modo sull'Europa perché detta i tempi delle crisi europee e anche delle loro remissioni ecco ma soprattutto in questi anni questo scontro diventa tripolare perché accanto a queste due diciamo tendenze europee ne appare una terza questa viene chiamata quella dei funzionalisti perché era fatta e formata soprattutto da funzionari il più importante dei quali il più rappresentativo dei quali era un francese che si chiamava Jean Monnet e che aveva fatto i suoi esperimenti nel corso della prima e della seconda guerra mondiale gestendo diciamo degli organismi sovranazionali che servivano a razionalizzare diciamo i tempi e la logistica della guerra ecco fondamentalmente i funzionalisti ritenevano dopo il fallimento diciamo della Europa politica che l'Europa si potesse fare in qualche modo a prescindere dalla politica mettendo al centro i fatti concreti e soprattutto quei fatti concreti che non potevano trovare una loro soluzione nell'ambito nazionale cerco di esemplificare per ragioni di tempo fondamentalmente il metodo che loro proponeva era questo prendiamo un problema e questo problema che non può essere risolto in un ambito meramente nazionale cerchiamo di risolverlo attraverso la devoluzione delle nazioni del minimo di sovranità necessario perché esso possa essere risolto poi da qui partiamo per cercare di risolvere un problema più complesso sempre con lo stesso metodo in modo tale che la devoluzione del potere della sovranità dall'ambito nazionale all'ambito sovranazionale potesse essere in qualche modo progressiva e direi proporzionata cioè non ci fosse una fuoriuscita improvvisa di sovranità ma si costruisse una lenta devoluzione in modo tale che alla fine il potere ci si sarebbe trovato trasferito in un ambito più alto ecco per diciamo così cessioni consecutive e progressive ecco questa soluzione è quella che ha portato poi alla costruzione del mercato unico e di fronte a questo a questa corrente le due principali non si sono in qualche modo opposte hanno piuttosto provato a portare i funzionalisti dalla loro parte cioè a rendere compatibile il funzionalismo con il federalismo oppure con il confederalismo nel tentativo alla fine di prevalere e soprattutto nella convinzione che ci sarebbero stati prima o poi dei problemi politici così dirimenti per i quali una visione solamente funzionale un approccio solamente funzionale non sarebbe stato più sufficiente ci sarebbe stato bisogno di qualcosa di più ecco tutto questo in qualche modo e mi avvio a terminare viene travolto nel momento nel quale cambia l'ordine mondiale cioè viene travolto con l'89 la caduta del comunismo la fine dell'ordine bipolare e l'ingresso in scena della globalizzazione ecco voi pensate che cos'era l'Europa dei sei all'inizio e pensate che cos'è l'Europa dei più di venti che si forma improvvisamente e di fronte anche a una necessità storica che forse oggi riusciamo a capire molto meglio perché l'implosione diciamo dell'impero sovietico porta molti paesi in una sorta di limbo strategico geopolitico hanno bisogno di avere un punto di riferimento questo ovviamente l'Europa non era abituata a questo e soprattutto pone dei problemi enormi da un punto di vista della compatibilità innanzitutto identitaria ma poi anche della compatibilità economica e della compatibilità politica perché ci troviamo sistemi molto molto differenti ecco è in questa fase che anche il problema della sovranità viene in qualche modo riclassificato ora si potrebbero fare lunghi discorsi ma no però arriviamo al punto arriviamo al punto nel libro ci sono due interventi che sono quelli che chiudono ci sta l'intervento di Mario Draghi se non sbaglio del 19 e un intervento di Eduard Balladur l'ultimo vecchio del gollismo del 20 le loro ricette sono in qualche modo antitetiche cosa dice Draghi dice la complessità con la globalizzazione è diventata così forte che la sovranità nazionale da sola non riesce ad affermarla ad affrontarla dunque quelli che rivendicano la sovranità nazionale al di fuori di della creazione di ampie zone di integrazione stanno fondamentalmente coltivando un'illusione avranno la sovranità nazionale ma non decideranno nulla Balladur invece dice no guarda i concetti sono sempre gli stessi e dunque il nostro problema è quello di trovare il modo di esercitarla la sovranità nazionale ma non di cambiare i concetti o di trovarne un esercizio diciamo in maniera indiretta ecco queste sono le due tesi che si scontrano però è l'ultima cosa che dico e me la concederà il nostro moderatore qual è il vero tema oggi è che tutto questo segna ovviamente un percorso che ha visto cambiare profondamente i termini della questione ma dopo circa 80 anni noi ci ritroviamo di fronte al nodo dal quale l'Europa è partita e ci troviamo di fronte di nuovo al nodo della pace e della guerra purtroppo è cronaca quotidiana ed è allora di nuovo di fronte a quel nodo che noi dobbiamo porre la questione la guerra degli anni 50 54 che non si fece fu la grande occasione per l'Europa si perse e da allora non è più tornata oggi si ripropone ma si propone in un quadro nel quale questa volta se la grande occasione non verrà afferrata l'Europa probabilmente avrà un destino di assoluto declino cioè di fronte ai fatti del mondo rischia di non essere più incidente né come Europa né come stati nazionali che la compongono grazie è davvero un compito ingrato togliere la parola al professor Quagliarello che abbiamo ascoltato che è sempre un piacere ascoltare abbiamo ascoltato registrato e ho preso un paio di pagine dei appunti quindi non me ne vorrà se faccio il mio compito di moderatore anche perché vorrei poi fare un giro di tavolo e tornare con lui e fargli un paio di domande prima di salutarci poi prosegue questo incontro su due tempi c'è un secondo dibattito che prende il via dopo le 18 il cuore delle questioni di cui parliamo oggi rimane quello le relazioni Italia-Francia che sono state nella storia lo abbiamo appena sentito prodromi che sono state il motore propulsivo dell'Europa che conosciamo oggi se guardiamo a quello che accade oggi a Parigi c'è una parte un pezzetto di futuro della storia tutta da capire il macronismo che è stato negli ultimi dieci anni e la sfida della Le Pen che è incumbent e quindi tante cose ci riserva diciamo proprio la Francia e a proposito di Italia e Francia una riflessione con la quale poi do la parola al nostro ospite successivo parlando di guerra noi abbiamo avuto la Libia che ha avuto qualche problemino come tutti sapete Al Serraji ha chiesto l'intervento europeo ha chiesto l'intervento italiano in particolare l'Italia non si è potuta muovere più di tanto è intervenuta la Francia che però sosteneva Haftar sosteneva l'avversario in Libia di Al Serraji e questo noi oggi lo dobbiamo dire bene il modello di difesa europeo ci vuole un esercito europeo ma non è quello il punto forse a monte ci vuole una politica estera europea perché è la politica che poi detta alla difesa le mosse da fare quindi il tema della guerra è a valle di un tema tutto politico e su questo do la parola al professor Francesco Gui della Sapienza che ha la parola e con il microfono che trova di fronte grazie per questo incontro è un'occasione di riflessione e ovviamente anche per imparare a prendere molte cose beh obiettivamente questa Europa ci vorrebbe l'intelligenza artificiale per capirla cioè perché c'è una tale quantità di fattori che obiettivamente ne fanno parte che non è facile io lo condivido ovviamente l'idealismo di Altiero Spinelli ma non è facile dire che si può giungere se ci pensate lui era un rivoluzionario aveva creduto inizialmente in una rivoluzione socialista per certi aspetti riteneva che gli europei potessero fare una rivoluzione culturale e tutti identificarsi in un progetto rivoluzionario come era quello dello Stato federale europeo naturalmente è fondamentale per andare avanti che man mano le culture si avvicinino che sempre più si superino le identificazioni nazionali che si condividano dei valori comuni oltretutto tenendo conto appunto che il mondo si allarga sempre di più e inevitabilmente anche le società si integrano forse anche Erasmus aiuta a integrare per di più ci sono anche le immigrazioni eccetera quindi per certi aspetti insomma è più possibile forse adesso che in passato ecco però il merito di questa pubblicazione che del resto viene messa in evidenza anche nella prefazione della professoressa Cavallaro è che si parla di visione slanci entusiasmi dei protagonisti ma anche dubbi paure e incertezze e obiettivamente quello che emerge che è interessante in questa lettura è proprio riscontrarsi con queste visioni e nello stesso tempo anche con tutte le difficoltà le incomprensioni l'attaccamento alle proprie identità che è proprio di questo processo storico che forse io direi che potrà anche contribuire all'evoluzione antropologica dell'essere umano se questo essere riuscirà a superare questa sempre l'idea adesso ti faccio la guerra oppure adesso ti metto sotto oppure e invece si possa estendere questa convivenza appunto sulla base di principi che a suo tempo aveva annunciato anche o predicato anche Immanuel Kant sul quale il 22 prossimo faremo un incontro perché 300 anni fa il 22 aprile nacque Immanuel Kant e uno di quelli che scrisse ovviamente la pace perpetua alla base della quale c'era l'idea che l'uomo politico certamente non riusciva a risolvere tutto in un momento ma avesse questo fattore etico di base per cui lavorasse sempre con una motivazione che non era quella macchiavelliana se volete quindi il moralista politico ma era il politico morale quindi operava sempre per raggiungere progressivamente l'obiettivo della convivenza e della pace che era il grande obiettivo etico e che per certi aspetti lui riteneva che stesse anche in qualche modo nella natura sia pure attraverso conflitti che però avrebbero dovuto progressivamente ridursi bene allora cosa vorrei sottolineare di queste incomprensioni e difficoltà che emergono da tutti questi interventi beh per esempio qui si cita anche il povero Alcide De Gasperi che ormai stava molto male si trovava nella sua terra a Bolgoval Sugana e la CED era finita male e appunto il dolore di quest'uomo poi forse i tedeschi riusciranno a Denauer a trovare una soluzione ma noi dovremmo sottoporci al semidissolvimento del nostro esercito solo per poter partecipare al campionario di truppe dislocate in Germania e l'onore di un più infranciosato comando a Parigi allora questa Italia appunto che aveva sognato che fosse possibile costruire un sistema politico diciamo di ispirazione sovranazionale si trovava di fronte a una grande disillusione e sappiamo che De Gasperi ne soffri profondamente di questo in quanto a De Gasperi vorrei aggiungere una cosa nella parte finale del libro si accenna anche alla alla permanenza della cultura cristiana e del ruolo che la cultura cristiana è avuto nell'Europa anche in questo caso se volete in maniera un po' contraddittoria perché da una parte aveva mantenuto tuttora una serie di valori che in fondo tutti devono condividere e però progressivamente l'Europa era anche voluta per il progressivo emergere dell'identità sovrane prima i re e poi magari fossero pure la sua età nazionale ma in sostanza si era divisa secondo diverse identità beh vorrei dire che in questa circostanza dopo la seconda guerra mondiale Adenauer Schumann e De Gasperi erano tutti molto vicini alla chiesa cattolica erano molto vicini ai vescovi delle loro città a parte che De Gasperi era stato anche ovviamente c'era ancora l'impero austro-ungarico e quindi era stato anche rappresentato in quella circostanza però a me non sembra un caso che si dovette ricorrere a delle persone con questa concezione ovviamente con il supporto della chiesa per poter diciamo ricominciare a ragionare in questi termini e però allo stesso tempo questo disegno nell'immediato almeno non fu possibile però questa istanza questa volontà permane e qui appunto è una delle tante contraddizioni che riscontriamo e troviamo in tutti questi interventi per esempio vediamo per esempio l'intervento di Mande France nel 57 all'assemblea francese qui emerge un senso di identità molto forte per esempio sì d'accordo la circolazione dei beni le merci insomma il mercato comune eccetera però non si può dire per le migrazioni delle popolazioni insomma ha paura che troppi italiani se ne vadano in Francia e quindi questo mercato comune deve tutelare comunque le identità non solo ma anche l'industria tedesca va molto bene però qualora andasse male ci troveremmo pieni di tedeschi che vogliono lavorare da noi ecco vedete la preoccupazione di questo signore insomma che non sentiva proprio una forte identità europea ecco quindi come minimo non è stato ancora raggiunto quella cultura un po' comune come quella che sognava il tiro spinetti bene e se voi adesso non so quanti minuti se comunque voi continuate eh cinque allora se voi continuate a leggere questi interventi troverete appunto cose per esempio un po' sorprendenti di Pompidù che diceva ma se noi facciamo l'Europa senza l'Inghilterra è quasi come l'ex imperio napoleonico con l'Inghilterra di fuori no dobbiamo mettere dentro anche l'Inghilterra il che ovviamente aggravava ancora di più l'ipotere di poter fare un modello federale perché l'Inghilterra come sapete poi arriva la Tacher eccetera ecco e per esempio anche più tardi Giscard d'Estaing che diceva insomma facciamo un passo indietro un'altra cosa che non può essere dimenticata quando si parla di unità europea comunque dietro c'è il background degli Stati Uniti d'America e quindi anche questo è un tema che comunque incombe cioè dovremmo fare qualcosa di simile però non è così facile allora qui c'è una descrizione allora noi come siamo vogliamo fare uno Stato federale a due livelli beh non esattamente il livello è quello degli Stati poi abbiamo un campanile in mezzo che sono le autorità diciamo i livelli istituzionali dell'Unione ecco ma gli Stati restano sempre coloro che detengono il potere ecco anche qui guardate la fantasia con cui si cerca di far capire che sono Stati d'Europa ma c'è il campanile non c'è proprio un governo e un assetto e un assetto federale e però diciamo anche una cosa che piano piano diciamo il processo lentamente sta progredendo sempre attraverso anche queste contraddizioni e questi complessi problemi da risolvere non dimentichiamo che l'Europa è partita con le potenze coloniali che la Francia come sapete c'era ancora qualche problema coloniale oltre a essere entrata nel mercato comune oppure il nucleare la Francia è l'unica potenza nucleare e quando appunto quelli pensano cosa facciamo allora nel campanile ci mettiamo anche la potenza nucleare o ce la teniamo noi e questo è un problema che ancora sussiste poi abbiamo vissuto tutta una serie di anni è stato detto appunto siamo partiti in sei con Europa con una Germania divisa a metà ricordate Andreotti che disse mi piacevano due germani eccetera no ecco erano due ecco appunto e dopo di che c'è stato allargamento includendo altri paesi tra l'altro con una serie di complicazioni ce lo dico perché è una grande sfida e bisogna veramente ragionarci perché c'è una quantità di fattori che ne fanno parte per esempio la Jugoslavia era una poi sono diventati sette allora adesso sono diventati sette stati tutti sette con diritti di veto tutti con diritto di mettere un giudice nella corte di giustizia eccetera bisogna lavorarci su tutte queste cose ecco in conclusione vabbè volevo ricordare due cose uno qui si parla di Inaudi però ricordiamoci che gli Stati Uniti d'Europa è un obiettivo che è già stato posto dai francesi Charles Monnier 1872 ha scritto gli Stati Uniti d'Europa e lì c'era Garibaldi che partecipò e fecero una rivista gli Stati Uniti d'Europa in francese inglese e italiano scusate in francese tedesco e italiano quindi questa va tenuto conto di questa base culturale che è pure altrettanto importante cioè non c'è solo quella concezione gollista c'è anche questa che si è estesa ovviamente Briand era anche erede di questa ci fu la Lega Internazionale per la Pace e la Libertà che operava e anche la Sotteria delle Nazioni eccetera in base a tutto questo quindi per certi effetti questo è un aspetto incoraggiante un'altra cosa concludo appunto questa storia dell'Europa di incontro fra unità e diversità progressiva identificazione nazionale mi faccio un po' di pubblicità abbiamo pubblicato adesso tre libri su Santa Maria della Vittoria una chiesa di Roma di cui non è chiara quale sia questa vittoria non molti la conoscono però proprio lì emerge una di queste contraddizioni c'era l'unità della chiesa dell'impero eccetera poi gli stati cominciano a rivendicare la propria identità addirittura a cambiare le loro concezioni religiose e questo è un processo appunto che obiettivamente ha condizionato a fondo l'Europa e qui in questo giustamente scusate era il professor Ney che volevo Reigné che volevo commentare più a lungo ma appunto lui sottolinea tutto questo la battaglia della montagna bianca che viene ricordata in questa circostanza ma che nessuno ricorda è stato un evento europeo fondamentale proprio di questo processo unità o diversità grazie grazie davvero grazie professor Guy Università della Sapienza adesso la parola padrone di casa perché il professor Tommaso Visone insegna qui in Link è docente di storia delle dottrine politiche anche egli a dieci minuti di tempi europei cercherò di essere il più veloce possibile anche se la questione mi sembra dare da meritare un minimo di approfondimento almeno su alcuni punti io sono molto contento di presentare questo libro che è un libro che va ad affrontare come giustamente diceva prima il professor Quagliaiello il nodo cordiano per eccellenza forse il problema dei problemi di chi si trova oggi a interessarsi di politica in maniera profonda da una prospettiva europea ma forse non solo perché trovo interesse a questa problematica anche ad esempio in Sud America dove sono stato di recente per motivi appunto di l'insegnamento e questo è un libro che tratta appunto e porta come documenti una serie di interventi su questo tema e propone anche tra le linee dentro questa scelta ovviamente una scelta di tematiche di protagonisti e di chiavi interpretative la prima di queste e credo sia importante sottolinearla almeno dalla mia prospettiva disciplinare è il problema che si tratta su un libro sul rapporto d'Europa e sovranità nelle riflessioni italo-francesi ora Italia e Francia sono i due paesi dove è nata la riflessione sulla sovranità perché come sapete bene il concetto moderno di sovranità viene introdotto da Jean Baudin nel 1576 nell'opera I sei libri della Repubblica ma fa parte di un dibattito molto più basso che si sviluppa in Francia in quegli anni e che coinvolge appunto diversi giuristi francesi e i cosiddetti leggisti che a loro volta riprendono però i materiali di questa discussione alcuni concetti dandogli una torsione completamente diversa da tutto il dibattito italiano precedente che ha convolto per sé i giuristi come Accurzio Marino da Caramanico Andrea da Isernia Cino da Pistoia Bartola Sassoferrato Balbo degli Ubaldi potrei continuare ancora che sono tutti questi autori che costruiscono le basi così viene poi si va a definire il concetto di sovranità e lo fanno da parte loro sottolineando come il potere lo chiamano superanus è la giurisdizia superana sia un potere diviso questo soprattutto emerge nella scuola dei commentatori e qui c'è la differenza ovviamente con quello che accade poi invece in Francia perché in Francia si sottolinea invece come questo potere sia uno perpetuo e assoluto e soprattutto proprietà indivisibile dello Stato e questa riflessione da Baudin arriva poi dentro con un percorso che non sto qui a descrivere perché sarebbe lungo ma arriva dentro le carte costituzionali della rivoluzione francese che poi influenzano tutto il mondo ora questo quindi non è un semplice fattore storico questo significa che in questi due paesi c'è un'attenzione per questo concetto e che questa tradizione è rimasta nel dibattito nelle università e che ha poi investito anche il mondo della politica quindi è particolarmente interessante leggere questi interventi perché appunto si può vedere come una parte importante dei temi storici che sono stati affrontando nel corso questo lunghissimo dibattito tornino dentro questi questi appunto interventi che sono stati raccolti un'ulteriore chiave interpretativa interessante che è quella di cui parlava prima anche il professor Quagliarello è quella che riguarda il saggio del 63 di Altiero Spinelli che fa vedere come esistono tre approcci il federalista il funzionalista e il confederalista intergovernativo come lo volete chiamare e fa vedere da un lato come questi tre siano distinti e come vi sia anche in corso una competizione in quegli anni da parte dei federalisti e dei confederalisti dall'altra parte per appropriarsi diciamo dei funzionalisti ecco questa è una chiave che torna più volte poi all'interno di tanti interventi del libro ed è una chiave che è importante in sede storica perché un grande storico olandese Luke Van Mittelaar che forse ha scritto il più bel libro sulla storia dell'integrazione europea secondo me perché un libro che ha una prospettiva concettuale che è rarissima quando si studia la storia dell'integrazione europea che si chiama Passage to Europe nel 2012 utilizza esattamente questa chiave qui senza attribuirla a Spinelli però la utilizza utilizza ripropone proprio questa ripartizione e fa vedere come a ognuna di queste tre prospettive corrispondano delle istituzioni il Parlamento per i federalisti il Consiglio per appunto intergovernativi confederali e la Commissione per i funzionalisti e come ognuno di questi faccia poi riferimento chi è all'Europa degli Stati chi è all'Europa delle burocrazie i cosiddetti burocrati chi poi all'Europa dei cittadini appunto i federalisti quindi è una chiave questa è una chiave importante e fatta questa questa premessa vorrei adesso dare un piccolo contributo in senso costruttivo critico perché insomma quando si discute di un libro bisogna poi cercare di vedere anche le cose da diverse prospettive insomma per portare avanti la discussione voglio lanciare degli spunti critici allora il primo è questo mi sono sorpreso di non trovare in questa antologia un grande dibattito francese che va proprio al cuore di questa questione che è il dibattito tra François Mitterrand e Philippe Seguin nel 1992 in televisione dove si discute del trattato di Mastricht approvare o non approvare il trattato di Mastricht e lì c'è un confronto su questo tema che emerge in maniera netta quando Seguin dice a Mitterrand dice io mi ricordo il generale De Gaulle che diceva che senza sovranità nazionale non c'è democrazia possibile allora lei presidente ci garantisce che con quella firma questo trattato la Francia resterà sovranità e Mitterrand dice sì glielo garantisco non sarà toccato nulla la Francia continuerà a fare politica estera e a gestire il suo esercito e a essere presente tutti gli scenari che sono quelli su interesse e lì c'era stata da poco mi sembra la visita di Mitterrand a Sarajevo e Seguin dice ma io presidente vorrei che lei e i suoi successori potessero continuare a fare questo tipo di iniziative e lui dice sì glielo garantisco sarà possibile continuare a fare questo tipo di iniziative quindi in certo senso è un confronto che fa vedere come per i francesi sia fondamentale in quella fase decisiva conservare la loro sua vita nazionale questo emerge da tutte e due le posizioni ed è il tema della discussione per questo credo sia rilevante in questo tipo di antologia che ritengo poi un'altra questione io devo fare una premessa che è fondamentale se no non sarei onesto intellettualmente con voi come diceva Max Weber uno deve controllare i giudizi di valore ma è impossibile controllare la relazione al valore cioè gli occhiali che uno si mette quando analizza poi la realtà nel mio caso io ho una prospettiva federalista quindi le cose che vi dico non è che ve le dico per caso ma vengono da questo tipo di prospettiva qui quindi una cosa che anch'io non avrei fatto per esempio è mettere Einaudi tra i pionieri di questo tipo di discorso perché Einaudi sviluppa diciamo così un discorso che poi non si realizza nella realtà Einaudi dice io voglio lo cito esplicitamente alcuni passaggi si trovano tra l'altro anche nei testi sono stati in cosi qui altri no Einaudi dice io voglio un super stato voglio uno stato federale in cui gli stati si esaltino nel fare pochissimi compiti la gestione interna della giustizia i compiti di polizia non un po' di stato sociale fine questa Europa non è mai nata l'Europa di Einaudi quella appunto del super stato lui dice io adesso vi cito velocemente un bellissimo articolo tra l'altro attualissimo chi vuole la bomba atomica Corriere della Sera 1948 e lui dice esplicitamente chi vuole la pace deve avere la federazione degli stati la creazione di un potere superiore a quello dei singoli stati sovrani tutto il resto è pura chiacchiera non basta gridare a basso la bomba atomica viva la pace e poi aggiunge se un giudice delle malefatte deve esistere se l'aggressore deve essere preso per il collo e costretto a desistere dalla rapina deve esistere una forza uno stato superiore agli altri il quale possa farsi ubbidire dagli stati singoli devono anzi gli stati singoli essere privati del diritto e della possibilità della guerra e della pace questo oggi in Europa non c'è quindi io non credo che Einaudi sia pioniere dell'Europa per come si se non l'avevi messo lì ecco e questo Einaudi è molto vicino tra l'altro alle posizioni di Spinelli che in tanti modi diversi cambiando tante volte posizioni anche trovando soluzioni diverse però ha sempre insistito su una cosa le sovranità nazionali soprattutto nell'ambito della politica estera devono finire finire questo è molto chiaro c'è un passaggio del libro in cui il professor Cariello giustamente dice Spinelli rinuncia a un certo punto all'integralismo federalista vero rinuncia all'integralismo federalista nel metodo non nel fine nel fine non ha mai rinunciato e questo si ritrova in tutte le fasi della sua lunga e complessa anche avventura ma questo lo documenta molto bene Piero Gragliano in ricca biografia del mulino dove segue tutti questi percorsi invece sarebbe interessante mettere tra i pionieri secondo me Carlo Sforza che nel 29 tiene un discorso dove dice che appunto l'integrazione del futuro si fonderà sulla condivisione del carbone e dell'acciaio e pensa a un processo graduale di integrazione europea che poi è quello che concretamente è avvenuto nella prospettiva italiana ecco alternativa che risponde più a quello che poi è successo vado avanti molto velocemente per non togliere altro tempo il saggio di Dominique Regnier è un saggio profondo molto bello di alto respiro che tocca tantissimi temi io posso solo concordare con quello che dice alla fine sulle tre condizioni di portare avanti la visione forte dell'Europa e rafforzare l'idea di una sovranità europea andare in questa direzione ecco concordo sulle tre condizioni che lui indica che sono confini da definire potere da rivendicare per l'Europa e identità da difendere però qui attenzione a fatto che si intenda identità non come come un qualcosa ha definito un monolite definito una volta per tutte dalla storia ma come un insieme di risorse attivabili in base ai problemi concreti un insieme di risorse plurali e qui venga una cosa che non mi convince il saggio Regnier Regnier insiste molto in questo rapporto tra la matrice cristiana e la costruzione dell'Europa moderna soprattutto a partire da lui cita spessissimo Chabot è il primo di questi autori questo Regnier non lo scrive che dice che l'Europa nasce quando la cristianità non può più essere il punto di riferimento in comune tra gli europei perché ci sono le guerre di religione e quindi l'Europa è moderna intesa come sinonimo di cultura e poi sempre più di civiltà civiltà è un concetto che nasce nel settecento non a caso il settecento per Chabot è il secolo dell'Europa l'Europa moderna nasce proprio su questa esigenza di dover sostituire la cristianità non di essere anticristiana ma di essere una repubblica post cristiana per dirla scusate con una battuta et siam si Deus non da retua per citare Gozio questo è il tema dell'Europa come se Dio non ci fosse non si chiara che Dio non c'è o che non è importante però non è il tema più al centro questa è l'Europa che si risulta in questo modo qui e lo dice lo stesso Chabot quindi questa cosa mi ha lasciato un po' perplesso ecco leggere non solo parlare di Europa cristiana significa sottovalutare quelle che Luciano Pelligani chiamava le radici pagane dell'Europa o quelle che Marcello Veneziani chiama le radici islamiche dell'Europa altrettanto importanti o l'apporto della cultura ebraica eccetera eccetera cioè significa mettere l'accento su una sola delle matrici della cultura europea lo stesso varrebbe se io facessi questo discorso solo per la cultura greco-romana e via dicendo sono tutti elementi importanti che entrano nel discorso dell'Europa moderna che è da tutti i punti di vista quella che Van Gui chiama una transciviltà cioè una civiltà che acquisisce elementi da diverse parti da diverse risorse ed è in grado di riattivare diverse prospettive attenzione questo è da un lato un bene e dall'altro un male perché poi abbiamo visto l'Europa anche cosa ha prodotto nel diciannovesimo soprattutto il ventesimo secolo ma non c'entro perché mi porterebbe fuori chiudo vengo a chiudere così non tolgo altro tempo e vengo sul tema appunto dei trattati del Quirinale soprattutto degli ultimi discorsi qui contenuti mi diciamo c'è una nota amara da parte mi credo che questo libro abbia una punta forse di non voglio dire di ottimismo ecco ma vedo un dibattito che io non vedo oggi un dibattito c'è ed è profondo è il dibattito fondamentale ma non lo vedo nelle sedi opportune e mi spiego che distanza tra il discorso del 51 di Schumann che viene qui portato che si preoccupava coscio di difficoltà dell'operazione di portare a casa un'iniziativa assunta allora al governo francese in un ambito specifico ma strategico che distanza tra questo e il discorso roboante del 2017 di Macron che cita ogni ambito possibile immaginabile dello scibile umano del dibattito politico e non individua un punto strategico di azione non solo ma poi parla di Europa sovrana e ogni volta che nella concretezza perché la politica non significa solo fare discorsi sono importantissime ma significa poi dare a questi discorsi un riscontro nei fatti nella propria azione politica ogni volta lì si è posta la possibilità di fare qualcosa per portare avanti il discorso della persona non l'ha fatto o ha fatto l'opposto potrei citare l'iniziativa poi sarà Macron stesso la conferenza sul futuro dell'Europa questa conferenza ha portato poi a un percorso il Parlamento ha lanciato la riapertura dei trattati su questo e il Consiglio europeo non ha neanche discusso neanche messo all'ordine del giorno la possibilità di riaprire i trattati e la Francia è stata a guardare su questo quindi le cose si vedono quando ci sono le occasioni concrete altra cosa la difesa europea ora c'è tutto questo grande dibattito mettere o non mettere l'esercito sul campo se si vuole una difesa europea Macron alza il telefono e fa una proposta che ha un valore simbolico e anche concreto materiale in questa parte che è quella di mettere in comune la force dei frappi e il seggio all'ONU se fa questa proposta ai tedeschi io sono sicuro che qualche risposta arriverà dall'altra parte questa proposta non arriva mai non arriva mai perché io ritengo che Macron sia molto più gollista di tanti gollisti lo è nei fatti non è un caso che riprenda la strategia degli accordi bilaterali lanciata da il generale De Gaulle una strategia che secondo me l'ha portata a ben pochi risultati io vado al discorso del 17 cito la parola di Macron gli obiettivi sono sicurezza difesa dei confini gestione dei flussi migratori 2017 ampliamento del partenariato con l'Africa sicurezza energetica alimentare e compilazione civile ecco voi mi sapete dire uno di questi uno solo di questi ambiti dove c'è stato un gran risultato da parte di questa presunta cercata leadership francese soprattutto dopo la Brexit perché è vero che come è stato scritto questi trattati sono trattati che nascono in realtà di gestire la fase post Brexit ma è più vero che tutto questo ad ora ha portato a poco non dico a niente a molto poco l'unico risultato che io vedo concreto è il next generation EU ma attenzione il next generation EU rischia di essere una tantum senza un futuro se poi non si vanno appunto a cambiare i trattati non si va a affrontare il nodo cordiano di cui stavamo parlando e questo oggi non sta avvenendo mi spiace non sta avvenendo non c'è questa questione oggi chiudo se il futuro dell'unione è la nuova interventi attuali affidato all'attesa dei frutti delle convergenze intermittenti cito il tiro del saggio sul tema della sovranità ovvero dell'unione stessa tra i governi nazionali ovvero tra le convergenze intermittenti da queste classi dirigenti allora quello dell'unione europea rischia di essere un avvenire a voler essere ottimisti di declino e a voler essere realisti con quello che c'è fuori dai confini di tragedia resta a tutti noi la responsabilità oltre i fallimenti sul piano della costruzione istituzionali delle vecchie classi dirigenti che non sono uscite ad oggi a risolvere questo problema ecco saranno la responsabilità di batterci per ostacolare questa deriva che purtroppo attualmente è in corso grazie grazie mi associo agli applausi brillante l'intervento anche del professor Visone siamo partiti dieci minuti in ritardo quindi ci prendiamo i tempi di recupero molto rapidi perché avete visto quante suggestioni quante idee quanti stimoli sono arrivati dalla presentazione del magnifico libro curato dalla professoressa Mariaia Cavallaro dal professor Quagliarello e dal professor Regnier tanti gli stimoli ricevuti e da tutti gli interventi e io volevo terminare appunto con tornando a dare la parola al professor Quagliarello e interrogato dagli stimoli che avete sentito abbiamo tutti parlato professore di un'Europa decidente che è la grande esigenza che è la grande necessità starei per dire urgente un'Europa decidente sugli esteri lo abbiamo detto sulla difesa sulle politiche energetiche sul tema dei diritti e delle libertà perché no sul tema della giustizia guardiamo l'Ungheria e quant'altro chi non ha memoria non ha futuro questo libro aiuta ad avere buona memoria c'è il tema del futuro su questo il grande lavoro che sta facendo il professor Giorgio Grimaldi che ci ricorda come l'Europa abbia un po' interrotto le riflessioni la commissione sul futuro delle istituzioni europee ecco che cosa vede nella costruzione di un futuro delle istituzioni europee il professor Quagliariello come uscire dai veti incrociati come uscire dalla maggioranza impossibile che si crea insomma i temi sono questi grazie innanzitutto grazie ai miei due interlocutori per gli stimoli qualche piccola risposta mancano tante cose in questa antologia e poi appunto il tema della sovranità c'è in Europa c'è anche quando fai un'antologia italo-francese nel senso che dire ai francesi cosa devono mettere cosa non devono mettere è già un modo col quale poi il libro non lo fai più e quindi la ragione io ricordo benissimo quel dibattito e la suggestione appunto è assolutamente è assolutamente fatta e invece una cosa per esempio manca jammone che è ancora più importante per certi versi però appunto lì c'è poi insomma una cosa invece che se vogliamo è un'autocritica rispetto al libro il libro sconta due due approcci forse avrebbe fatto meglio a sceglierne uno cioè uno è l'approccio diciamo tra virgolette ideale e l'altro è l'approccio della realizzazione perché poi quando si parla diciamo del nodo della sovranità lo si può assumere dalle due parti quindi questa è la ragione per la quale Enaudi è stato compreso perché tra le altre cose ecco però qui volevo fare un piccolissimo approfondimento tra le altre cose Enaudi che era fondamentalmente un conservatore viene ricordato anche come uno dei diciamo precursori dell'antitotalitarismo per la sua critica allo Stato sul versante economico che lo collega direttamente alla scuola di Vienna Fomises Hayek e così via viene abbastanza taciuto invece il fatto che questa stessa critica lui l'aveva messa a punto per quel che riguarda il tema europeo e fondamentalmente il tema del cosiddetto mito della sovranità assoluta comprendendo con una chiarezza che questi interventi riportano comprendendo come quel mito avrebbe inevitabilmente portato alla guerra europea anzi alle guerre europee e secondo me è importante averlo ripreso per una cosa non c'era il tempo di evidenziare perché poi Enaudi nel dopoguerra è nel periodo della ricostruzione il massimo collaboratore di Alcide De Gasperi e uno degli elementi che li tiene insieme in questa ricostruzione è l'aver compreso l'importanza del vincolo esterno cosa che Enaudi applica e qui appunto c'è invece un'applicazione concreta nell'ambito delle grandi istituzioni economico-finanziarie europee e De Gasperi invece facendosi appunto paladino dell'unità prima della cieca e poi della ced tema di cristianità e post cristianità non c'è dubbio che la costruzione dell'Europa è una costruzione post cristiana nella sua secondo me e sono altrettanto d'accordo sul fatto che il riferimento a Chabot è fondamentalmente una forzatura ma dire che nella sua genesi è il tentativo di riprendere quella unità europea che c'era al tempo del sacro romano impero e secolarizzarla come risposta a quello che era accaduto nel novecento secondo me questo invece è qualcosa di corretto e che ritroviamo fondamentalmente come tratto di unione in Schumann Adenauer e De Gasperi al di là delle loro biografie che li avevano fatti diciamo li avevano fatto pagare sulla loro pelle insomma il costo dei nazionalismi perché uno era un trentino e quindi scisso tra l'impero austro-ungarico e l'Italia l'altro era un renano dove passavano tutte sono passate tutte le guerre del novecento il terzo era un alzaziano e nella sua vita era stato sia tedesco che francese è giustissimo è giustissimo cioè sì c'è una nota di ottimismo è vero c'è un wishful thinking e però è molto giusto però secondo me abbiamo fatto bene ammetterlo quello che insomma se uno legge quel discorso di Macron legge il discorso di una sconfitta perché di quel discorso non è stato realizzato nulla io non so e qui dico una cosa se il problema si pone in questo caso sul piano ideale o sul piano invece della politica d'abord cioè se la sconfitta è determinata da quello che è stato detto cioè da un fondamentale gollismo di Macron o invece dalla necessità di coprirsi a destra che è dovuta fondamentalmente a quelle che sono le contingenze dello scontro politico in Francia probabilmente non lo sa nemmeno lui fatto sta che da tra quel discorso e la pratica politica appunto passa fondamentalmente tutto quel che può passare l'Europa decidente ecco guardi probabilmente è per quello che ha detto il professor Gui il il riferimento alla Jugoslavia che era una che ora sono sette no nell'Europa che verrà questa dopo diciamo le ultime gli ultimi ingressi è un'Europa che non potrà essere mai fino in fondo federalista o intergovernativa questa era una cosa possibile fino a che l'Europa era dei sei era dei dei dodici ma nell'Europa che si accinge ad essere dei trenta a me sembra estremamente estremamente difficile il vero problema secondo me si gioca attorno ecco questo è l'ultima cosa cioè l'Europa e qui appunto chiudo su questa cosa a mio a mio avviso ha fatto dei passi avanti quando è stata costretta dalla realtà a fare dei passi avanti cioè l'Europa l'unità europea ha scalato i picchi della insomma della sua compattezza quando è stata costretta dalla situazione esterna la cieca si è fatta perché in quella contingenza c'era bisogno del carbone dell'acciaio della SAR e della RUR e dovevi cercare di prendertelo senza che questo diventasse forza dei tedeschi diciamolo in maniera proprio brutale e la CED si è arrivato fino all'approvazione dell'articolo 31 che è diciamo il punto più avanzato in cui l'Europa è arrivata quando sembrava che il conflitto che la guerra di Corea in qualche modo deflagrasse e portasse un'altra guerra mondiale quando poi la guerra la possibilità la situazione internazionale si è pacificata sono tornati fuori tutte quante le urgenze di carattere nazionale e al limite quello che si è fatto è stata un'integrazione economica di cui oggi conosciamo i pregi ma anche tutti quanti i limiti al limite ma anche lì anche lì lo si è fatto sotto la scura della necessità diceva giustamente Aron che se nel cinquantasette ci fosse stato De Gaulle al potere la eh i trattati di Roma non si sarebbero mai firmati ma se nel cinquantanove ci fosse stata ancora la Quarta Repubblica non sarebbero mai stati confermati che cosa voleva dire con questo che quella roba si è fatta perché serviva impellentemente all'agricoltura francese conveniva all'agricoltura francese quindi l'integrazione si è fatta per una ragione fondamentalmente diciamo di convenienza nazionale oggi noi però ci troviamo e qui veramente chiudo secondo me di fronte a uno di questi bivi della storia perché di fronte allo scenario che ci si presenta e che ci si potrebbe presentare ancora più e qua introduciamo un'altra variabile dopo le presidenziali americane l'Europa qualcosa la deve fare l'Europa qualcosa la deve fare per cercare di darsi delle difese e darsi delle garanzie perché in caso contrario si troverà ancora più esposta di come è oggi allora grazie grazie davvero apprezzabilissima anche la chiosa che ci ha di cui ci ha fatto dono il professor Quagliarello voglio ringraziare voi che ci avete seguiti con pazienza e credo anche con interesse chi è collegato da casa vedo i nomi degli studenti che si succedono in collegamento ringrazio tantissimo il magnifico rettore che ha Roberto Giusti e naturalmente tutta la link per l'ospitalità che ci ha dato rimane il professor Giorgio Grimaldi perché poi c'è l'avvicendamento al tavolo e c'è il secondo panel che ci terrà a compagnia fino alle 19 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti allora direi di iniziare senza indugio visto che partiamo leggermente in ritardo ma assicuro i nostri relatori che recupereremo il tempo perduto li invito ovviamente a venire al tavolo, grazie a David Rinaldi per essere connesso online, se vuole attivare la telecamera di modo da salve, benvenuto, grazie della partecipazione. Questo panel approfondirà alcuni aspetti un po' più politici in vista delle elezioni europee e il ruolo delle fondazioni dei partiti politici, il modo in cui il dibattito viene alimentato a livello europeo presso la società civile e anche il ruolo delle fondazioni politiche come collante tra i partiti proprio e il mondo delle organizzazioni europee, quindi di secondo livello che riuniscono cittadini, imprese e appunto la società civile. Quindi io vi ringrazio di essere rimasti per questa seconda parte e vi presento i nostri due relatori, Federico Ottavio Reo, coordinatore della ricerca del Wilfred Martins Center for European Studies e David Rinaldi, direttore per gli studi e le politiche pubbliche della fondazione per European Progressive Studies e docente della Libra Università di Bruxelles per European Studies. Quindi vi ringrazio, io chiederei ai nostri due relatori di parlarci un po' delle fondazioni politiche, cosa fanno le fondazioni politiche e le loro in particolare, di modo da darci un po' una panoramica e poi ovviamente sarebbe, penso, opportuno anche con voi, con voi che siete rimasti in sala e anche con coloro i quali sono connessi, un dibattito proprio sulle elezioni e su che cosa ci dobbiamo aspettare da queste elezioni. Abbiamo toccato un tema importante che è quello della sovranità, che è quello dell'idea d'Europa e adesso vediamo concretamente come ci stiamo preparando come europei, con quale responsabilità civile. Quindi io seguirei la locandira e darei la parola a Federico Ottavio Reo. Grazie. Grazie della parola, grazie dell'invito, saluto tutti voi, saluto anche chi ci segue in collegamento, David Rinaldi. Sì, ma io diciamo forse proporrei un itinerario in tre tappe, diciamo, perché mi sembrano questi tre punti sollevati dal tema. Il primo è i partiti politici europei in quanto tali, perché spesso non li si conosce, già i partiti politici nazionali non godono di ottima salute, quelli europei sono ancora più sconosciuti, quindi forse è il caso di dare qualche cenno su da dove veniamo, come siamo arrivati al punto in cui siamo, perché ovviamente le fondazioni politiche europee sono direttamente affiliate ai partiti politici europei, sono create come fondazioni dei partiti in modi particolari, che non esistono nell'ordinamento italiano perché sono copiati dall'ordinamento tedesco fondamentalmente. E quindi il secondo punto che solleverei dopo i partiti politici europei è quello che dicevi tu le fondazioni, appunto quando sono state create, con quali compiti, come funzionano. Va detto anche qui che parlo soprattutto della fondazione che rappresento, perché ci sono differenze importanti tra le varie fondazioni politiche, il Martin Center è la fondazione politica affiliata al Partito Popolare Europeo, ci sono delle regole comuni, c'è un regolamento dell'Unione Europea che disciplina sia i partiti che il funzionamento dei partiti e delle fondazioni, ma poi ci sono anche delle variazioni di governance e di struttura nelle varie fondazioni e qui ovviamente avete i rappresentanti delle due maggiori, quella dei popolari e quella dei socialisti. Poi se c'è tempo, ma questo magari lo lasciamo per il dibattito, qualche cenno sulle elezioni, ma magari lo lasciamo per dopo. Partiamo dai partiti. Ovviamente sapete tutti che i partiti politici europei non sono comparabili ai partiti nazionali, appunto dicevamo godono di cattiva salute i partiti nazionali, ma restano realtà relativamente strutturate, relativamente chiare nelle loro strutture di leadership. I partiti politici europei ancora oggi sono fondamentalmente delle confederazioni di partiti nazionali che hanno un grado di coesione a volte sorprendente, per esempio se voi guardate ai voti europei, alle statistiche sui voti europei, il PPE credo abbia più del 90% di coerenza nei voti, che è molto alto, però comunque è il risultato di negoziati spesso difficili e restano organizzati come delegazioni di partiti nazionali. Però hanno radici remote, quasi diciamo nelle prime fasi dell'integrazione europea di cui si discuteva nel panel precedente. Forse voi sapete che già nell'assemblea parlamentare che precede il Parlamento europeo direttamente eletto, i parlamentari di secondo livello, perché erano parlamentari nazionali, non c'era ancora l'elezione diretta, si sedevano in base all'affiliazione politica nell'emiciclo che all'inizio era quello di Strasburgo, non quello non era Bruxelles. Quindi già alle origini si cercava di dare un impianto parlamentare ideologico ai lavori dell'assemblea parlamentare, organizzandola in base all'emiciclo ideologico piuttosto che alle delegazioni nazionali. però il vero momento di svolta in cui si comincia a strutturare è la prima elezione diretta del Parlamento europeo, quindi il 79, diciamo la seconda metà degli anni 70. Quello è il periodo in cui la maggior parte dei partiti politici principali si strutturano. Il PPI per esempio è stato fondato ufficialmente nel 76, in larghissima parte per preparare la prima elezione diretta. Subito dopo quell'elezione diretta si mise diciamo all'ordine del giorno nel dibattito accademico politico il tema del deficit democratico. Abbiamo sentito parlare, adesso forse un po' meno, ma era stato un tema importante per decenni e cioè il fatto che sì esisteva prima un'assemblea parlamentare poi un Parlamento ma aveva poteri molto limitati, quasi inesistenti nei confronti diciamo rispetto alle due istituzioni, una diciamo quella sovranazionale ma tecnocratica la Commissione e l'altra quella più intergovernativa il Consiglio. Il Parlamento era un po' l'ultima ruota del carro diciamo anche quando c'è stata la prima elezione diretta. Quindi il rafforzamento dei partiti politici europei va in parallelo con il rafforzamento del Parlamento spinto in parte soprattutto negli anni 80 da Tommaso diceva prima il professor Visone, noi federalisti puntavano sul Parlamento, Spinelli è stato a lungo diciamo un promotore importante di progetti di rafforzamento del Parlamento e questo andava di pari passo con una tendenza, più il Parlamento aveva potere più c'era bisogno di partiti politici solidi anche perché poi i lavori parlamentari vanno organizzati e quindi l'embrione diciamo organizzativo dei partiti politici è stato l'organizzazione dei gruppi parlamentari in effetti perché il Parlamento aveva più potere e quindi bisognava organizzare questi i lavori del Parlamento. Negli ultimi vent'anni diciamo nell'ultimo ventennio io segnalerei mi sembra che ci siano stati due sviluppi importanti. La prima è il processo di Costituzione europea che poi è sfoggiato e fallito perché come sapete la Costituzione è stata rifiutata nel 2005 in Francia e in Olanda ma poi è sfoggiata comunque la sostanza di quel progetto è rimasto nel Trattato di Lisbona e lì c'è un cambiamento importante perché per la prima volta c'è un cambio legale in cui si richiede al Consiglio di nominare, di proporre il Presidente della Commissione europea in base tenendo conto del risultato delle elezioni europee. Adesso non ricordo se questa è la traduzione italiana esatta perché sono abituato a maneggiare queste questioni in inglese però più o meno il concetto è quello. E l'altro sviluppo più politico pratico è l'enorme ampliamento di fatto delle competenze dell'Unione durante le crisi a ripetizione degli ultimi 15 anni. Pensate all'economia, di fatto c'è una forma di cogestione ormai di tutte le economie europee tra i governi nazionali e la Commissione. La Commissione ispeziona le leggi di bilancio prima ancora che i parlamenti nazionali le vedano, quindi c'è un grado di coinvolgimento delle istituzioni europee molto elevato e questo ha creato una spinta a parlamentarizzare ulteriormente, a rafforzare il ruolo dei partiti politici europei perché ci si è resi conto che i poteri aumentavano, la lettera dei trattati imponeva una maggiore considerazione del Parlamento dei risultati delle elezioni ma nella sostanza i partiti restavano cosa debole. Quindi una delle iniziative più interessanti da quel punto di vista degli ultimi anni è stata questa iniziativa, si potrebbe probabilmente dire non è stato un gran successo, però lo Spitzenkandidaten come si chiama nel gergo brussellese, cioè quella procedura attraverso la quale i partiti hanno cercato di rafforzare se stessi e di rafforzare il Parlamento nei confronti del Consiglio proponendo dei candidati alla presidenza della Commissione, sostenendo che uno dei candidati, il candidato del partito principale poi doveva essere scelto dal Consiglio. È chiaro che questo genera un travaso di poteri, se volete, dal Consiglio al Parlamento, quindi dall'intergovernativo al federale, al sovranazionale e anche rafforza i partiti politici europei che la prima volta che questa è stata proposta sarà il 2014, poi il 2019, per la prima volta si è visto un embrione di campagna elettorale, per esempio, che seppure condotta dai partiti nazionali, però c'era una presenza dei partiti europei, un coinvolgimento del candidato, diciamo dello Spitzenkandidat deciso con vari modi, perché ogni partito ha avuto modi diversi di selezionare lo Spitzenkandidat, il PP per esempio di solito lo fa ad un congresso in cui sono rappresentati i delegati dei partiti nazionali. E poi c'è tutta una serie di altre proposte per rafforzare i partiti politici europei, questa proposta di liste transnazionali, per esempio, c'è una proposta di modifica della legge elettorale europea che è bloccata per il momento, non ultimo per le reticenze del Consiglio, ma che prevede varie innovazioni interessanti, liste transnazionali, maggiori fondi, l'eliminazione di tutta una serie di restrizioni alla possibilità dei partiti politici europei di fare campagna elettorale e così via. Quindi questo è il quadro che mi sembra di poter dare. Sulla prospettiva futura a me sembra che ci siano due modelli che si confrontano, sono ideal tipici ovviamente nella pratica, sono spesso confusi. Uno è l'idea dei partiti politici europei come strutture sussidiarie, cioè più o meno quello che abbiamo funziona, sono delle strutture che organizzano delle delegazioni di partiti politici nazionali, si possono rafforzare, magari si può mettere il logo nella scheda elettorale, si può rafforzare il finanziamento, si può dare maggiore potere ai gruppi e così via, però fondamentalmente la legittimità sale dal basso e quindi non si possono trasformare in partiti come li abbiamo conosciuti a livello nazionale, anche perché se guardate è tipico spesso delle tradizioni federali avere dei partiti molto inconsistenti, i partiti americani sono poco più che coalizioni elettorali, quindi non sarebbe diciamo, non è nemmeno incompatibile con una prospettiva federale avere partiti di questo tipo, credo. L'altra prospettiva è quella dei partiti diciamo sempre più partecipati, sempre più pensate a volt, a questi esperimenti di democrazia transnazionale che di fatto coinvolgono direttamente i cittadini, tendono ad esautorare le delegazioni nazionali e così via, quindi questi sono i due modelli che mi sembra si contendano il futuro dei partiti, è chiaro che le risorse a questo momento tendono ad essere controllate da chi propende per il primo modello e poi all'orizzonte mi pare che ci sia la spada di Damocle, non so se chiamarla così perché la connota in maniera negativa già, però c'è tutto questo dibattito sulla democrazia rappresentativa e deliberativa che sta prendendo piede a livello europeo. Io faccio parte di un gruppo all'Istituto Universitario Europeo messo insieme dalla professoressa Nicolaidis che alcuni di voi forse conoscono e l'idea di quel gruppo è di lanciare un'assemblea di cittadini permanente, non dico che la condivido però faccio parte del gruppo e se ne discute, vedo che ha un enorme appeal soprattutto nel mondo accademico, una parte del mondo giovanile e quindi questo è un salto anche di tipo democratico radicale perché significa potenzialmente indebolire o sautorare i partiti, forse anche il Parlamento, ma quel dibattito esiste quindi credo che sia giusto metterlo sul tavolo in questo contesto. Adesso le fondazioni, vengo alle fondazioni. Allora le fondazioni hanno avuto una storia e una preistoria mi verrebbe da dire, entrambe secondo me sono abbastanza interessanti. La storia è legata già al periodo che ho descritto anche per i partiti politici, credo che il regolamento che disciplina le fondazioni se non vado a raro sia nel 2006, una cosa del genere. Il momento è importante perché siamo nell'immediato, sono i postumi del fallimento dei due referendum sul trattato costituzionale, quello francese e quello olandese. Quindi ci si rende conto che non esistono delle culture politiche europee veramente sviluppate, non esiste una coscienza politica europea ben sviluppata, i partiti politici europei sono deboli, questa è probabilmente una delle ragioni per cui questi due referendum sono andati male. Nella riflessione brussellese, poi i problemi sono complessi, non voglio affrontare il merito della questione. Quindi su quella scia si decide che vanno create delle fondazioni politiche europee che abbiano il compito di fare cultura politica e di sviluppare una cultura politica democratica e anche varie culture politiche democratiche, perché poi in fondo la democrazia è quella, è una competizione tra culture, tra visioni alternative del bene comune per il controllo delle leve del potere. Quindi varie culture politiche democratiche affidando a delle fondazioni un compito di rilevanza pubblica, perché queste non sono fondazioni finanziate da privati, sono finanziate, il bilancio delle fondazioni politiche europee come quello dei partiti politici europei, del resto viene erogato direttamente dal Parlamento, esiste un'autorità nel Parlamento che controlla molto da vicino che i partiti e le fondazioni rispettino le regole secondo cui sono tenute ad operare. Quindi sono sul modello tedesco delle fondazioni che svolgono un compito di rilevanza pubblica. In Italia questo non esiste, c'è stata una breve parentesi, ma poi di fatto credo erroneamente si è abbandonata quella, anche perché in Italia tutto questo lavoro veniva appaltato direttamente ai partiti e alle scuole di partito, soprattutto nella Prima Repubblica, quindi non c'era quella tradizione. In Germania è diverso, questa è la preistoria di cui parlavo prima, accenno brevemente perché è interessante, le fondazioni politiche tedesche nascono dopo la fondazione Adenauer, quella forse più conosciuta dal lato popolare, sono delle fondazioni che nascono in un paese che aveva dimostrato di avere una scarsa cultura democratica, siamo nell'immediato dopo guerra, quindi i postumi del nazismo e così via, per rafforzare l'identità democratica e le culture politiche democratiche in Germania. Quindi è interessante secondo me questo parallelismo perché anche a livello europeo fondamentalmente è quella l'idea. C'è bisogno di fare cultura politica, c'è bisogno di ripensare la democrazia su scala sovranazionale, transnazionale, di riflettere su cosa voglia dire per la cultura politica diciamo democristiana o conservatrice o socialista, operare in un ambiente transnazionale con tutte le complicazioni costituzionali che in parte sono emerse nella discussione precedente, quindi un sistema che non è né del tutto confederale, già ben più che confederale, ma non è ancora federale, in cui esistono canali di legittimità in competizione e così via. A questo lavoro di elaborazione, già dall'inizio per esempio nel caso del Martin Center, già dall'inizio si è posta un'alternativa, c'è una specie di dialettica tra quelli che ritenevano che la fondazione dovesse essere la custode dell'ortodossia democristiana e quelli che ritenevano che il compito della fondazione fosse favorire lo sviluppo di una sorta di fusionismo ideologico tra le varie tradizioni che facevano parte delle PP, perché una cosa che non mi sono scordato di dire, gli allargamenti sono fondamentali in tutto questo processo, perché soprattutto l'allargamento degli anni 90 e poi quello del 2004 ha portato nell'Unione Europea dei paesi che non avevano delle culture politiche paragonabili a quelle dei paesi fondatori. In molti paesi non esistevano partiti democristiani, diciamo nel senso occidentale del termine, quindi l'allargamento dei vari partiti, in particolare per il PP ha posto un problema dottrinale, cioè come si integrano questi nuovi partiti che vengono da esperienze storiche completamente diverse, non hanno la stessa cultura, le stesse culture politiche e quindi da qui nasce questo problema, la fondazione deve essere il custode dell'ortodossia all'interno di un partito che si allarga e quindi si diluisce oppure il centro di elaborazione di una nuova unità ideologica. E poi negli ultimi anni mi pare che ci siano intervenuti due degli aspetti a cui facevi riferimento tu, uno è l'assistenza proprio di tipo strategico programmatico al partito, cioè i partiti politici moderni sono sempre meno capaci di fare elaborazione culturale, programmatica, quindi per esempio vi faccio un esempio concreto, nel 2019 ci siamo resi conto che il PP aveva il candidato, cioè la von der Leyen che poi è diventata Presidente della Commissione ma non aveva il programma, non era chiaro che cosa si volesse fare, proprio perché si era investito tutto sul candidato ma non c'erano delle linee, scusate se lo dico francamente, e quindi negli ultimi cinque anni la fondazione ha svolto anche un ruolo di elaborazione più programmatica, ha fatto tutto un lavoro di preparazione del prossimo ciclo anche in termini di proposte concrete che poi ovviamente aspetta il partito accettarle o meno, non siamo nel compito della fondazione, però c'è un lavoro di elaborazione. L'altro aspetto importante è la rete, perché va diciamo ritorno al punto di partenza, favorire l'europeizzazione delle culture politiche nazionali fa parte dei compiti delle fondazioni politiche, infatti le fondazioni politiche hanno di solito una sede brussellese, però poi hanno una rete di associazioni e fondazioni nazionali che ne fanno parte, che di solito sono delle fondazioni di aria o addirittura le fondazioni di partito dei partiti membri dei partiti europei, quindi per esempio in Italia la fondazione Adenauer fa parte del Martin Center, l'Istituto Sturzo fa parte del Martin Center e così via. Poi sì, mi avvio a conclusione, ultime due cose che direi, facciamo un lavoro per quanto possibile, ci interfacciamo col mondo accademico, cosa che soprattutto per i partiti di centrodestra non è sempre facile perché si tende, in molti paesi, diciamo, le posizioni dominanti tendono ad essere più, diciamo, progressiste, vediamola così, quindi, sì, poi è variegato certamente, e poi sì c'è tutto un rapporto, una parte più di advocacy educativa, di tenere che rapporti con la società civile, con organizzazioni della società civile, e così via. Io mi fermerei qui, poi le lezioni le lasciamo per dopo. Poi verrete stimolati a dovere su questo tema. Do la parola adesso a David Rinaldi, le ringrazio di essersi connesso, so che deve lasciarci, insomma, alle 19.10, quando è prevista la chiusura dei lavori, ovviamente abbiamo iniziato un po' in ritardo, per cui ci protrarremmo leggermente oltre, però intanto gli lascio la parola per il suo intervento iniziale e per spiegarci un po' che cosa fa la FEPS e, insomma, qual è il suo ruolo all'interno di questa fondazione. Grazie. Grazie mille. Vi spiego subito, in realtà, il perché a un certo punto, probabilmente alle 19.10, dovrò sul serio lasciarvi, perché, come sentirete anche dal sottofondo, non sono in ufficio, ma nella hall di un albergo, alla Ulp, vicino a Bruxelles, perché oggi la presidenza belga ha lanciato e firmato una dichiarazione per l'agenda sociale europea, ovviamente alla presenza e con la firma di entrambi i candidati che noi qui rappresentiamo, c'era Ursula von der Leyen, e il commissario Schmidt, ovviamente, nella loro capacità di presidente e commissario, non in quanto candidato, ma è la volontà politica di una presidenza, così come la volontà politica di alcune persone specifiche, personalità politiche, che mandano spesso avanti gli affari europei nelle diverse direzioni che ogni tanto vediamo, quindi è veramente, c'è come dire, noi alcune volte ci diamo tanto da fare a studiare le modalità, il come, il perché, e poi veramente alcune volte tutto dipende da una, due o tre persone che riescono a metterci capacità e volontà politica. Io sono, come hai detto giustamente, sono David, alla FEPS, la Foundation for European Progressive Studies, sono direttore di studi e politiche pubbliche, mi occupo quindi dell'impatto delle policy, delle politiche pubbliche e della qualità accademica degli studi della FEPS, che fa capo alla famiglia progressista europea, che forse, e vengo qui e forse appunto alla discriminante, forse più grande tra la famiglia del centro-sinistra e quella del centro-destra, in quanto il Partito Popolare Europeo è forse facilmente più identificabile in quanto ha una struttura, diciamo, che si parla in modo molto più chiaro tra quella del Parlamento, all'interno del Parlamento Europeo e quella del partito vero e proprio, mentre all'interno della famiglia del centro-sinistra le due entità sono ancora più separate. La FEPS quindi ha una relazione sia con il Partito Socialista Europeo, che è il vero partito europeo, ma dall'altra parte la gran parte del lavoro, supporto, intelligence, connessione è con il gruppo dei socialisti e democratici al Parlamento Europeo, quindi la relazione va con entrambe le entità e le organizzazioni politiche, con la differenza che nella famiglia socialista c'è un capo al Parlamento Europeo, in questo caso Irace Garcia, che gestisce il gruppo S&D, quindi c'è una leadership politica e un'altra leadership politica, Stefan Leffen, ex primo ministro svedese, che gestisce il Partito Socialista Europeo, quindi sostanzialmente un potere politico un pochino diviso. E se mi posso permettere, non voglio andare in grosse discussioni sui partiti europei, ma se qualcuno di voi non è un grande esperto in sala e vuole forse mantenere, ricordarsi due cose al momento, io penso descrivano i partiti, data la struttura che hanno, è che uno, i partiti hanno una membership che è fatta di partiti, quindi voi che siete lì in sala, io non mi posso iscrivere al Partito Socialista Europeo, così come Federico non si può iscrivere al Partito Popolare Europeo, tutti noi possiamo essere membri dei partiti nazionali e poi sono i partiti nazionali che compongono, sono la membership del Partito Europeo, quindi di fatto è come se mancasse un pezzetto della partecipazione dell'attivismo e dovendo la maggior parte dei casi decidere le questioni all'unanimità, i partiti, quindi la posizione del Partito Europeo dipende dall'opposizione, dalla volontà dei partiti nazionali, un po' troppo spesso può succedere, c'è il rischio che questa struttura ci porti in una posizione in cui il partito politico europeo rappresenta una sorta come posizione, una sorta di minimo comune denominatore rispetto ai partiti nazionali, una sorta di somma dei partiti nazionali. È un po' difficile, accetto alcuni casi in cui c'è molta volontà politica, un po' di lungimiranza, riuscire a fare molto di più di quanto i più timidi partiti nazionali vogliano e accettino di fare. Però è anche il ruolo delle fondazioni portare ambizione, portare entusiasmo, portare la volontà di fare di più, di fare meglio ed è per questo che il lavoro succede nelle fondazioni direi su due canali principali che definirei uno di policy e uno di narrative di politics se vogliamo. Quello più di policy è necessariamente andare a cercare di capire quali sono le modalità di intervento sulle politiche specifiche, dobbiamo fare la transizione giusta, cosa vuol dire, dove si prendono i soldi, come li dobbiamo dare, quali sono gli enti e le organizzazioni che devono essere coinvolti, a chi va la responsabilità, come si fa la strategia. Così è uguale, vogliamo fare la tassazione per gli aerei che sono super inquinanti, la dobbiamo fare in un modo in cui ha un vero impatto e allora magari andiamo a studiare e ci accorgiamo che l'unico impatto che ha è sul prezzo finale e magari servono altre modalità per arrivare all'obiettivo finale. Quindi comunque la maggior parte degli studi hanno a che vedere sulle questioni proprio di policy design, però allo stesso tempo come fondazione e l'elaborazione politica va anche nel tentare di capire quali sono gli spazi narrativi, quali sono le nuove keywords, le nuove aree su cui bisogna a livello politico sviluppare un pensiero, connetterlo con il sistema valoriale rappresentato dal partito, provare ad andare ad aprire nuovi spazi o occuparli politicamente. Quindi le due anime del pensiero sono uno un po' più concreto di policy e l'altro più politico strategico e di linguaggio comunicativo e linguaggio politico. Però all'interno di questo come diceva giustamente Federico c'è la necessità da parte delle nostre fondazioni di creare questi punti di contatto cross country tra paesi, cioè essere veramente un forum perché nonostante che siamo tutti europei e magari si lavora tutti sulle stesse cose, nel frattempo qui stanno spostando tutta la wall, non so quanti rumori sentite intorno a me. Sostanzialmente dobbiamo veramente alcune volte riuscire a connettere persone che tra il Portogallo, la Finlandia, l'Italia e la Slovenia si occupano di politiche per i giovani ma non hanno veramente alcune volte idea di cosa fanno l'uno con l'altro. Non sanno quali sono le politiche migliori messe in campo da paesi simili e quant'altro. Quindi creare i network sostanzialmente così come uno degli altri doveri della fondazione è anche quello, mi verrebbe da dire, di insegnare l'Europa, se si può, attraverso scuole di formazione, attraverso articoli di giornale o simili, per fare in modo che molte delle cose che vengono fatte a Bruxelles siano raccontate in modo anche abbastanza corretto. Bruxelles può essere una macchina strana, però è anche capace alcune volte di andare nella direzione giusta e molte delle buone novità che accadono a Bruxelles non hanno molto spesso una ricaduta immediata nel dibattito politico nazionale, quindi è bene raccontarla nel migliore possibile. Detto questo, per il momento mi fermo qui che vedo che sono già le 19 precise, spero di poter rimanere con me per qualche domanda. Grazie, esattamente. Volevo lasciare adesso un attimo, io avrei delle domande ma voglio dare preferenza a quelle degli studenti in questo momento, se ce ne sono, e anche dei miei colleghi. Prego. Buonasera, sono Angela Lombardi. Il dottor Reo prima ha detto che i partiti nazionali, non godono di ottima salute. Io sono molto più categorica, dico che sono morti e sepolti, ci si riunisce soltanto in virtù di qualche scadenza elettorale. Però al di là insomma della mia considerazione, volevo chiederle, dottore, c'è un'esigenza incredibile di una politica europea vera. Ora, perché non si passi dai discorsi politici, come diceva il professor Visone, all'azione concreta? E perché quella idea visionaria di De Gasperi, dell'assetto politico unitario, non vada nell'oblio? È necessario che oggi la politica si re-ideologizzi fuori dalle categorie dei partiti tradizionali? O meglio, lo sta facendo? Grazie. Buonasera, sì, io avevo in mente una domanda già all'inizio, cioè appunto come mai comunque non si riesce a trovare un piano per l'immigrazione a livello europeo. Ecco, grazie. Io ho una domanda per entrambi i relatori, una questione che mi sta a cuore, un passato anche fatto delle campagne, che è quella di Spielsen-Candidaten. Ora, mi sembra che gli Spielsen-Candidaten, diciamo, abbiano subito un colpo molto duro nel corso delle scolze elezioni europee e volevo chiedergli che possibilità concrete hanno i candidati dei vostri rispettivi partiti o aree politiche, se preferite potete includere anche il discorso del gruppo Parlamento Europeo, appunto lo c'è David Rinaldi, ma che possibilità concrete hanno questi candidati di passare poi concretamente alla presidenza della Commissione? I partiti, voi avete l'impressione che siano pronti a difenderli oppure no? Io personalmente ho l'idea che non siano pronti a difenderli, però magari mi sbaglio e quindi ve lo chiedo. Voi ne sapete più di me? Grazie. Sì, la mia era una domanda sulla parte precedente del dibattito e sul tema della sovranità europea e se in qualche modo la Nato non costituisca un ostacolo al completamento del processo di integrazione europea. Sì, prego, dò la parola a David Rinaldi che deve scappare e poi è fritto. Esatto, grazie mille, grazie per le domande. Parto forse da quest'ultimo punto, scusate, mi sarò un po' telegrafico su ognuno dei punti da voi sollevati, anche se sono tutti meritevoli di discussioni molto ampie. Non sono un grandissimo esperto di nessuno di questi punti, ma offro un punto di riflessione da come si vede qui da Bruxelles, che magari alcune volte ci sono momenti in cui le questioni arrivano con tempistiche diverse rispetto a quelle italiane. Sulla sovranità europea legata alla questione della Nato, forse quello che tu descrivi è ciò che è successo nel passato. Diciamo che l'Unione Europea non ha sviluppato fino ad oggi la questione più relativa alla sicurezza e alla difesa perché abbiamo sostanzialmente passato questo obiettivo alla Nato, ci sentivamo tranquilli. In effetti la questione è nata la prima volta quando Trump ha preso la prima presidenza e si era capito che ci si poteva fidare già un pochino meno della Nato. È stato quello il primo momento in cui la questione della difesa è tornata principale nelle questioni europee. Ora, con le guerre alle porte e con Trump di nuovo alle porte della Casa Bianca, chiaramente dicendo che rischia di non finanziare la Nato e quant'altro, è chiaro che il multilaterale di per sé non basta più, ma c'è bisogno di un supporto e di una sicurezza europea che dipende anche da quello che è l'utilizzo del mercato interno e la capacità di utilizzare i soldi, fondi, investimenti europei in modo meno frammentato e in modo da essere più efficaci lavorando insieme con alcune commissioni e spese militari. Quindi quello che descrivi secondo me è più guarda al passato, mentre per il futuro c'è una vita per un'Unione europea che ha una propria sovranità anche militare in difesa esterna a quella della Nato. Sulla questione dello Spitzenkandidaten, secondo me al momento i due partiti principali sono estremamente motivati e estremamente convinti dei propri candidati, quindi è difficile trovare qualcuno che possa dire diversamente. È anche vero che finora nessuno mai degli Spitzenkandidaten, se non mi sbaglio, forse che Juncker non è la Spitzenkandidaten, è mai stato eletto, per cui dopo le elezioni effettivamente non si sa la negoziazione, come possa andare a finire. Cioè non voglio che si tratta di due candidati molto forti, una è la Presidente in pectore, l'altro è il commissario che forse ha fatto di più di tutti a livello dell'agenda che doveva portare avanti, per cui si tratta di due personalità molto forti che saranno difese fino alla fine. Come diceva Federico, anche nella parte progressista, ad oggi l'importante è muoversi non soltanto in direzione di quali persone spingere nella Commissione, ma anche quale idee spingere nel prossimo programma, working program della Commissione. Per cui da questo punto di vista tutti i gruppi politici, grazie anche al supporto delle fondazioni, si muovono ad oggi per avere pronti, subito dopo le elezioni, non soltanto i nomi per i vari commissari e presidenti, ma anche dei pacchetti o delle idee per avere un impatto profondo su quella che è la prossima azione della Commissione europea. Per esempio, non c'è da scordarsi che questa Commissione aveva la von der Leyen, ma aveva anche un primo Executive Vice President in Timmermans, come richiesta del gruppo dei socialisti e democratici, che fortemente ha voluto all'interno dell'impalcatura europea uno spazio per il Green Deal europeo. Quindi questa era una delle richieste che c'erano state tempo fa, vediamo quale sarà la richiesta che ci sarà successivamente. Il problema, l'altra domanda, sul piano dell'immigrazione, la mia risposta è che sfortunatamente c'è, a livello europeo, sfortunatamente un piano per l'immigrazione c'è, è stato votato un paio di giorni fa. Il problema da parte mia, che è un'anima progressista, è che è un piano che delinea un'Europa molto poco solidale, sia con chi è in difficoltà e ha bisogno di supporto umanitario legato alla stretta sopravvivenza, sia poco solidale nei confronti di chi accoglie, perché si dà la possibilità ad alcuni paesi, penso alla Slovacchia o all'Ungheria, di pagare qualche lira o qualche euro per avere il diritto di non accogliere migranti e richiedenti asilo. Diciamo che sostanzialmente le richieste della destra e del centro-destra sono diventate la posizione europea per l'immigrazione. Quindi questo c'è e non è esattamente quello che il centro-sinistra avrebbe voluto. Concludo con l'altra questione sulla necessità di avere una riflessione fuori dai partiti. In realtà, io credo che è quello che è avvenuto dal momento in cui l'Europa scelse l'austerità. Nel momento in cui, durante la crisi di dieci anni fa, l'Europa scelse di dare la priorità al taglio dei salari e al taglio della spesa pubblica come strategia per risanare l'economia, l'euroscetticismo e la voglia di abbandonare i partiti diciamo established è impennata, così come si è impennata la sfiducia nei confronti delle istituzioni nazionali ed europee. In quel tempo è anche il tempo in cui in tanti paesi sono nati partiti populisti che poi si sono trasformati in populisti di destra, populisti di sinistra, populisti più fascisti, populisti più massimalisti che diciamo sfidano il sistema o hanno sfidato il sistema più legato alla rappresentanza democratica. Ad occhio così non è che abbiano dato molto all'agire politico, non è che hanno migliorato molto la qualità della discussione politica o della discussione nel policy design. c'è molta narrativa del contro, c'è molta narrativa del noi contro voi che forse i partiti più storici dovrebbero incorporare in modo diverso ma diciamo questo sviluppo della parte movimentistica è rimasto comunque molto limitato. Dall'altra parte è vero che dobbiamo trasformare il modo in cui i partiti sono organizzati, il modo anche in cui le fondazioni sono organizzate per essere capaci di avere una qualità di una dialettica politica che è sempre più capace non soltanto di educare ma di ascoltare e di far partecipare. La maggior parte dei politici ad oggi sono sempre politici che parlano e ascoltano assai poco. Le questioni che alcuni movimenti portano avanti da tanto partecipazione e apertura, trasparenza, ancora non sono entrate a far parte della struttura fondamentale dei partiti. Quindi tante tante parti per esempio della popolazione giovanile che hanno voglia di incidere oggi, neanche domani hanno voglia di incidere oggi, non si sentono troppo rappresentati perché la struttura del partito non gli consente di far sentire la propria voce, di far sentire che la propria istanza o la propria suggestione di politica abbia una risonanza immediata sul nazionale, tantomeno sull'europeo. Per cui c'è bisogno di svecchiare i partiti rendendoli più dinamici internamente. Grazie David, grazie mille. Adesso ricopriamo l'ultima domanda e poi lasciamo a Federico Reo l'ultimo round di risposte. Io vi devo salutare, grazie mille a tutti e buona serata, buona continuazione. Grazie. Saluti da Raul. A voi. Grazie ma era comunque una domanda più focalizzata sulla fondazione presente in presenza. La domanda era un po' anche legata a questo tema del collega Bisone e sul ruolo ad esempio in questa occasione, in questa campagna elettorale per la prima volta, mentre l'esperienza Barroso non era legata al tema dello Spitz and Candidate, in questi giorni dibattito anche sull'idea che la possibile ricandidatura dell'attuale Presidente della Commissione possa essere anche utilizzata per sistematizzare questo tema dello Spitz and Candidate perché è il primo caso in cui la Presidente in carica sembra indirizzata, secondo tutte le ultime indicazioni, a potersi ripresentare. E qui è il ruolo chiaramente in carica rispetto alla possibile candidatura quanto possa influenzare poi il dibattito. Lo chiedo chiaramente per avere una maggiore informazione su come chiaramente può essere gestita questa situazione che è una novità utile alla crescita sempre comunque dell'Unione. Grazie. Grazie. Sì, grazie. Rispondo a tutte le domande, sì? Eh sì. Sì, va bene. No, no. Allora, vado in ordine quindi, forse con l'eccezione dell'ultima domanda che è legata a una delle precedenti, quindi magari rispondo insieme. Su questa questione dei partiti, ma questo è, non voglio dire, il santo graal della politica contemporanea, nel senso che, diciamo, tutti avvertono la crisi forse terminale, lei dice sono morti e sepolti, io dico sono agonizzanti, non godono di ottima salute, diciamo, è una questione di prospettive, ma insomma, io vedo il bicchiere mezzo pieno, lei lo vede vuoto, tutto vuoto, però, diciamo, il problema esiste, nel senso che vediamo la crisi, ma non mi pare che abbiamo sviluppato delle alternative molto credibili, no? Perché l'alternativa a quell'idea di una competizione organizzata tra strutture che hanno visioni diverse del bene comune e si contendono democraticamente, diciamo, il controllo delle leve del potere, abbiamo avuto varie esperienze alternative. Una di queste è la visione populistica, no? Della politica, quest'idea unitaria del popolo e questa tendenza a ripensare la competizione politica come una competizione tra elite e popolo e non più tra elite e popoli organizzati in partiti alternativi, incordate alternative che si contendono il potere. Non mi pare che sia molto soddisfacente, ha chiaramente una vena autoritaria. L'altra alternativa che abbiamo sperimentato è la tecnocrazia. È chiaro che ci sono delle tendenze tecnocratiche importanti nella società attuale, in parte legate al fatto che i partiti sono in crisi, perché i vecchi partiti, così come erano strutturati e organizzati, erano come degli alberi, non avevano le radici nella società civile e i rami nelle istituzioni. Quindi fungevano la cinghia di trasmissione tra la società civile e le istituzioni, traducevano le istanze della società civile in polli, si avevano un legame organico, strutturale, organizzato, con sezioni, eccetera. È chiaro che quel modello di partito è scomparso, ma le alternative che siano tecnocratiche, populistiche o anche deliberative, francamente, perché anche lì è un'idea di democrazia del tutto disintermediata, in cui i corpi intermedi non esistono più, si sorteggiano dei cittadini che nella loro capacità individuale, rappresentativi in maniera statistica, si edono in un'assemblea non organizzata ideologicamente, ma impegnata in deliberazioni. il rischio di deriva, diciamo, autoritaria, populistico-autoritaria, secondo me è notevole. Quindi il problema esiste, credo che in futuro quello che dovremmo fare è rivitalizzare i partiti dal basso, non saranno più i partiti totalizzanti, organizzati, che abbiamo conosciuto in passato, ma saranno delle realtà sussidiarie che si interfacciano con tante realtà diffuse, associazioni, gruppi vari, eccetera, esistenti sul territorio e poi cercano di fare una sintesi. Non siamo ancora, adesso la tendenza è molto più lideristica, cioè la mediazione la fa il leader a livello mediatico, più che, diciamo, le strutture di partito nelle loro interazioni con i corpi intermedi, ma credo che sia quella la direzione di marcia. Poi, in modi specifici, si dovranno vedere. Sull'immigrazione, condivido, diciamo, quello che diceva David, nel senso che c'è stato un accordo approvato dal Parlamento, poi bisognerà vedere perché anche il Consiglio dovrà espirare, ma credo che ci siano buone chance. Ci sono buone chance per i motivi che diceva lui, cioè lui non è contento, ma data la struttura che abbiamo era il compromesso, secondo me, migliore possibile, perché la distribuzione delle competenze è quella che è. E poi c'è anche un problema di… l'immigrazione è interessante perché se voi guardate alla storia della politica, della politica dell'immigrazione a livello europeo, pone il problema di questo conflitto potenziale tra le procedure che possono essere molto ambiziose, ma poi se la politica sostanziale non segue, noi abbiamo la possibilità di decidere a maggioranza qualificata sul tema dell'immigrazione, l'abbiamo fatto con le famose quote obbligatorie di qualche anno fa, dal punto di vista legale in punta di diritto era del tutto legittimo, però poi se alcuni Paesi ritengono che un aspetto fondamentale della loro sovranità viene violato, torniamo al discorso di prima, e quindi semplicemente boicottano la decisione, quindi questo modello mi sembra abbastanza flessibile, abbastanza sussidiario da essere un passo avanti e non rischiare di essere un'utopia irrealizzabile come era quella dell'idea di imporre delle quote migratorie da Bruxelles agli stati recalcitranti. Gli Spitzenkandidaten, condivido quello che diceva David, dico però che facciamo un passo indietro, Juncker è stato Spitzenkandidat, è l'unico Spitzenkandidat ad oggi che è riuscito a diventare Presidente della Commissione, aveva due caratteristiche interessanti che forse non sono esportabili nel contesto politico attuale, ma allora erano importanti, uno è un centrista, cioè non è né molto a destra, nel PPM è molto a sinistra e questo significa che riusciva a dialogare, poteva essere un punto di consenso delle forze politiche principali, socialisti, liberali e i popolari. Il candidato del 2019, che poi è l'attuale Presidente del PPM, veniva percepito a torto ragione come proveniente dall'ala destra del PPM, quindi era meno consensuale da quel punto di vista. Seconda caratteristica che aveva Juncker, era stato primo ministro del Lussemburgo per una ventina d'anni quasi, quindi era stato, aveva seduto, sedeva al Consiglio prima di diventare Presidente della Commissione, tutti i capi di Stato e di Governo lo conoscevano, lo stimavano, quindi era uno di noi, come dicono gli ex capi di Stato e di Governo, comunque aveva esperienza di Governo. Il candidato del 2019, Manfred Eber, non aveva esperienza di Governo. Quindi questi due elementi mi sembrano importanti per... Poi c'è la maggioranza parlamentare, la von der Leyen ha entrambe queste caratteristiche, però opera in un contesto politico molto più frammentato di quello di allora, in cui la maggioranza non è chiara, non è sicura, la compattezza dei vari partiti è in dubbio, quindi non è chiarissimo, avrà bisogno chiaramente di voti che vanno oltre la maggioranza tradizionale, questo mi sembra abbastanza chiaro, non basteranno i liberali, i socialisti e i popolari ad eleggerla, quindi dovrà cercare questi voti altrove. Saranno i verdi, però i verdi hanno una storia di scarsa affidabilità a livello europeo. Nel 2019 hanno negoziato tutti i punti del loro programma, nel programma della Commissione, poi hanno votato contro. Sarà una parte dei conservatori, il ruolo che vorrà giocare Giorgia Meloni, quindi non è escluso, quindi si andrà a un voto a un certo punto, per rispondere alla domanda del professor Visone, si andrà a un voto, il candidato che andrà a quel voto sono quasi sicuro sarà von der Leyen, però non è detto che lo vinca il voto, quindi se non riesce a vincerlo, poi il consiglio ha un mese, credo, in base ai trattati, per proporre un candidato alternativo. E questo si collega al tema che sollevava lei. Sì, il processo va sistematizzato, è chiaro che c'è bisogno di almeno un accordo interistituzionale e interpartitico, c'è bisogno di un accordo interistituzionale tra Consiglio, Parlamento e Commissione, ma in particolare Consiglio e Parlamento, che decida un po' le priorità e disciplini, i punti di blocco, come si sbloccano in qualche modo. E poi c'è bisogno di un accordo tra i partiti principali, probabilmente. A monte, potremmo parlarne a lungo, a monte c'è da interrogarsi se il modello sia veramente intelligente per una unione federale, sovranazionale, che ha una legittimità, diciamo, in cui una parte della legittimità viene dei cittadini e un'altra dagli stati. Io personalmente, insomma, il PPE è totalmente a favore, eccetera, ma non è che io qui rappresento il PPE. Io personalmente sarei più favorevole a un modello congressuale. Cioè il Parlamento è il controllore dell'esecutivo, non l'espressione dell'esecutivo. Il Parlamento nei sistemi federali, il Parlamento, il Congresso americano, non è che esprima il Presidente, al contrario, è il contraltare del Presidente. Però questo ci porterebbe, nei sistemi federali, però questo ci porterebbe lontano, appunto il professor Visone vorrebbe intervenire, non andremo più a cena. Quindi, che altro rimane? La questione Nato. Allora, dal punto di vista fondamentale è vero, nel senso che a un certo punto, se il problema della sovranità europea va sbrogliato, qualcuno deve avere il diritto di decisione ultima. Quindi, se quel qualcuno sta a Washington, allora l'Europa non è sovrana. che possiamo dire. Anche lì, diciamo, il PPA è molto atlantista, però io qui devo essere onesto, diciamo, sono anche in un contesto relativamente accademico, quindi devo analizzare le cose in maniera più o meno... Completamente, non le so. Ecco, ecco, completamente accademico. Quindi il problema di fondo, credo che esiste. Dobbiamo chiederci, però, cosa sarebbe successo all'Europa e cosa succederebbe oggi all'Europa se non ci fosse quell'ombrello, perché non sono sicuro che l'alternativa sarebbe la federalizzazione della difesa. Temo che potrebbe essere il collasso di qualsiasi forma di struttura comune, perché non c'è più l'egemone che organizza le cose. Quindi ci andrei cauto, non è nell'agenda politica, ovviamente, però ci andrei cauto ad augurarselo. E comunque in questo contesto specifico a me pare che la pressione americana stia andando in una direzione potenzialmente interessante, nel senso che è una direzione che ci costringe a fare di più a livello europeo e se riusciamo a creare delle strutture serie, a un certo punto si potrà forse porre il problema... Jolio Noworth, uno dei massimi studiosi di difesa europea, parla dell'europeizzazione della Nato, cioè della possibilità che se l'Unione Europea e la gamba europea della Nato è abbastanza forte, a un certo punto si potrebbe mangiare l'intera Nato, magari col consenso americano e finalmente, diciamo, tranciare il nodo gordiano e diventare sovrana. Però questo sarà, diciamo, per i prossimi decenni, nemmeno per i prossimi anni. Sì, vai. No, 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 l'ultima chiusa... Sì, ma abbiamo, secondo me, esaurito un po' il tempo. No, l'ultima mia chiusa velocissima è sul fatto che tutto questo che abbiamo detto di spizze candidata è vero finché rimane la struttura istituzionale attuale, ma possiamo escludere una riforma di trattati durante la passione di legislatura? Anche questo è un altro punto interrogativo. Allora, io volevo ringraziare, volevo solo fare qualche breve, così soltanto, considerazione anch'io. Ringrazio innanzitutto i rappresentanti delle fondazioni che si sono alternati oggi, che erano ben tre, perché bisogna ricordare anche che il professor Quagliarello, con la fondazione Magna Carta, fa riferimento, come dicevo, agli studenti a un partito europeo, comunque collegato, diciamo, in collaborazione a questo movimento cristiano politico, che è riconosciuto come partito politico europeo. Quindi oggi abbiamo avuto contatti e tra l'altro li vorremmo proseguire, perché questo progetto Jean Monnet sui partiti di democrazia e società civile andrà avanti. Volevo fare solo una considerazione e anche dare una notizia anche per gli studenti. In questi giorni sono usciti buona parte dei manifesti dei partiti europei, che sono sui siti o del partito europeo o delle fondazioni, però ci sono alcune anomalie che voglio segnalare, perché questo indica anche quali sono le diverse opinioni che i vari partiti hanno maturato, le diverse culture politiche hanno maturato sull'Unione Europea. Non tutti hanno presentato un manifesto politico dei partiti europei che voi conoscete. Ancora oggi ne mancano due all'appello, ma forse uno non vuole neanche presentarlo, diciamo, di questi partiti. Quindi vi invito ad andare a vedere i manifesti, sono relativamente brevi, però danno un'indicazione generale di quelle che sono le finalità politiche generali. E poi le fondazioni hanno a loro interno, sia la Wilfred Martens, che la FEPPS, che anche le altre, diversi studi su queste policy che sono state dette. Quindi possono essere oggetto di discussione, e anzi sarebbe opportuno che sempre più venissero conosciute da un pubblico anche più ampio per alimentare quei collegamenti che si sono spiccati, per vitalizzare i partiti a tutti i livelli, sia a livelli locale, nazionale, che anche europeo, per creare anche poi questa visione dei partiti. Perché c'era un politologo che diceva a uno dei convegni, ma i partiti europei sono un animale un po' strano, perché non lottando direttamente per il potere, a livello dei partiti europei, chiaramente è un po' difficile definirli. E quindi allora ci sono diverse definizioni per gli altri livelli, party on the ground, in central office, piuttosto che... Il livello dei partiti europei è ancora qualcosa che però si sta costituendo ed è importante come cittadini e come cittadini europei, che sempre di più da questo punto di vista siamo in qualche modo attenti a questo. Andate a vedere sul sito per esempio The Good Lobby, che fa un monitoraggio sui manifesti dei partiti europei, anche come questi manifesti sono stati elaborati, se coinvolgendo la società civile, i partiti, in che modo, sono delle fonti di informazione importanti da parte della società civile che permettono anche di un monitoraggio e quindi vi invito e ringrazio nel contempo tutti quanti dell'attenzione e soprattutto i relatori, i moderatori, i giornalisti che sono tutti intervenuti, vi ringrazio a tutti. Buon percorso anche di studio e di ricerca in vista di questo appuntamento che saranno le elezioni europee. Ecco, annuncio anche che poi alla Link organizzeremo, dopo le elezioni europee, però penso entro il mese di giugno, proprio un convegno sui partiti europei, quindi sarà anche un'occasione per tornare a discutere, a dibattere al più presto di questo. Grazie. 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 Grazie.